Quello di parlare di soldi, perché se ci pensate è molto strano fare quel tipo di conversazione, per esempio magari chiedere a un amico quanti soldi hai, domanda che faremo oggi, o quale è il tuo stipendio, per quello noi crediamo che la mania migliore per rompere un tabù è quella di parlarne. Abbiamo cominciato un anno fa con una newsletter che arriva tutti i mercoledì, dove raccontiamo storie, anche c'è un podcast dove anche lì la gente si denuda raccontando la sua vita finanziaria e lo facciamo anche con questi eventi che abbiamo fatto a Milano, Catania, Torino, Firenze e questa è la prima volta che lo facciamo a Roma e se questo è possibile, grazie Elisa, per quello grazie mille. E alla Roma Future Week che ci ospita. Esatto. Sì, sono veramente molto contenta, stavamo corteggiando Annelisa e Monserrat da tanto tempo per riuscire a portare il nudismo. Ma noi siamo facili da corteggiare, diciamo subito di sì, guarda. Per avere il nudismo a Roma, ce l'abbiamo fatta all'interno di questa settimana che si sta svolgendo e io sono un consulente del lavoro, che detta così sembra triste, ma non ti tirarti giù di questa maniera. Non è creativo, ci si scontra contro il consulente del lavoro, non si cerca e da qualche anno a questa parte sto cercando di mettere la mia esperienza e la mia conoscenza a disposizione di quante più persone possibili per la pianificazione finanziaria di lungo periodo e quindi la pianificazione previdenziale. in ambito di pianificazione previdenziale ho realizzato un podcast che si chiama Previdenti, non stiamo andando avanti con l'esercizio. Sì, io ci ho provato, ti devo dire che incredibilmente ci ho provato. Avanti. Quella dopo. Il podcast si chiama Previdenti e tratta di previdenza, di pensioni. E cerca di farlo in maniera semplice e in modo da avvicinare chiunque all'argomento perché la pianificazione previdenziale significa pensare al proprio sé del futuro, al proprio vecchietto che saluta da lì e ti dice che hai fatto durante la tua vita lavorativa perché io possa star bene. Perché questa è una cosa molto bella che ne parlavamo, che giustamente parlare di cose tipo risparmio, previdenza, la pensione, viene quasi anche un po' prurito e invece avevamo scoperto questo degli inglesi che dicono per risparmiare è tipo la future me, no? Io risparmio per la futura me e così è tutta un'idea completamente diversa e per quello abbiamo pensato che la Roma Future Week sarebbe perfetto per venire qua in questo momento per pensare anche al nostro futuro. Perché tutti abbiamo un futuro e tutti andremo in pensione. Si spera perché se no brutto. Sì, tutti andremo in pensione. al di là delle leggende metropolitane. La vera differenza sarà come riusciremo ad andarci e il come dipenderà da quanto avremo pianificato e quanto avremo pensato al nostro futuro durante la vita attiva. Per quello noi pensiamo che per darci all'azione bisogna rompere questo tabù e fare queste conversazioni. Per quello grazie mille che ci hai portato fino a qui. e direi che è arrivato il momento di dare... Le slide non sono il mio. Non so perché non mi obbedisce. Ok. Allora è arrivato il nostro momento di nudismo finanziario e abbiamo qua una coraggiosa meravigliosa della quale siamo super contenti. con noi immagino che la conoscete la superattrice Lidia Vitale. Vieni qua. Grazie. Noi ci possiamo sedere. Siediamoci. Super mega comode. Guarda che ci hanno preparato un salotto meraviglioso. Oddio che bello. Rilassiamoci con questo argomento facile facile. Sì anche perché tu hai avuto già una giornata super mega impegnativa. Eh? Tu hai avuto una giornata già impegnativa. Sì sì ma come al solito perché niente viene da solo no? Ne parleremo di questo. Perché noi economizziamo. Questa è la mia parola d'ordine. Ottimizzare. Ah sì? L'ottimizzazione sì. Ok. Come diceva Hitchcock il cinema è la vita senza le parti noiose. Io proprio l'ho eliminata. No questa è bellissima. Capito? Il cinema è la vita senza le parti noiose. Allora ho detto vabbè ma fammi costruire il film della mia vita. Wow. Quindi ottimizzo. Abbiamo parlato dell'attrice sociologa. Hai capito? La sociotrice. Che bellissimo. L'attriciologa. E giustamente sempre cominciamo queste conversazioni. Allora qua vedete questo quadro che per noi è emblematico rappresenta un po' quello che facciamo in questi eventi. perché non so se lo conoscete questo è un quadro di Manet che è la colazione sull'erba. Allora in realtà nel suo momento fu un scandalo pazzesco perché la gente si scandalizzò in realtà se ci pensate nudi vabbè in Italia siete pieni di nudi e invece come mai questa cosa fu così scandalosa ieri era perché era lei da sola intorno a delle persone che erano vestite. Con due uomini soprattutto. Eh. E... Con delle persone a casa. E' un po' quello che succede no? Quando parliamo di soldi ci sentiamo un po' così. Dici spogliati. Eh. tu no? Ma guarda io ho avuto talmente un percorso di soldi disastroso nella mia vita che ormai ho deciso che nella vita puoi decidere di vivere sulle montagne russe o così oppure capito? E io ho scelto vabbè facciamo la seconda. Madonna che bello. Eh no tanto comunque le devi fare le montagne russe. Ok. Allora o te le godi e ti diverti io odio le montagne russe non ci andrei manco pagata. Ah ok perché io ho vertigine. No io le odio però la vita è un po' una montagna russa no? In qualche modo quindi o ci va così e non ti godi niente non vedi niente oppure senti allarghi le braccia e sia quel che sia. Allora giustamente partiamo da questa domanda la facciamo sempre a tutti. Qual è il tuo primo ricordo legato ai soldi? Terrificante. Terrificante. A casa mia si litigava sempre per i soldi cioè io sono cresciuta con questa credenza che i soldi erano una maledizione praticamente perché la gente si scannava cioè erano sempre quante famiglie io ho smesso di vergognarmi su questo tema nel senso che credo che poi alla fine ci riguardi da vicino riguardi da vicino tanti di noi sono pochi i privilegiati che non hanno avuto conflitti a causa dei soldi e quindi io poi l'ho accolta la mia storia perché penso che ogni storia sia preziosa per quello che è perché altrimenti senza quella storia non sarebbe possibile la donna che sono oggi quindi è preziosissima e a cui sono molto grata anche alle tragedie per assurdo e nella mia famiglia questo aspetto era veramente stato causa di grandissimi conflitti cioè io mi ricordo i miei mio padre e mio zio che parlavano dell'eredità dei loro genitori quando sarebbero morti ma io ero piccola i miei nonni erano giovani quindi per 25 anni 30 anni sentire gente che si scannava sulla sul pensiero della morte di un altro oltretutto nel senso qua c'era troppo future me secondo me troppo future me un po' esagerato ma questo poi secondo me è proprio legato all'attaccamento quanto questa cosa riguarda l'attaccamento la roba di Verga è un libro meraviglioso di Verga in cui lui cita parla della roba questa Sicilia in cui la gente è così legata alla propria barca al proprio pezzo di terra noi siamo legati a delle cose che poi quando sei morto ma che te porti nella tomba la mia domanda è sempre stata ma che mi porto io poi in questo che ha detto il dottore che deve morire è l'unica certezza che ci abbiamo ok noi nasciamo e abbiamo una consapevolezza ha detto il dottore che devi morire sai che non sapevo che l'aveva detto lui Oppenheimer che adesso è molto in voga perché c'è il film che peraltro vi consiglio di andarlo a vedere bellissimo lui Oppenheimer diceva non prendetevi troppo sul serio la vita finiamo tutti morti cioè è un po' la livella capito è la livella di Totò cioè nel senso quindi noi viviamo questa vita in costante rapporto a questo pensiero di quel giorno che non ci sarà più quindi ti accorgi proprio che quello è un attaccamento non è come un volersi tenere attaccato cioè se me tengo la villa se me tengo la casa se me tengo il gioiello di nonna non moro no moro uguale e il gioiello se nel frattempo non te lo sei perso come me ne so persi io tantissimi alle brutte ma al meglio vai da taffo e diventi te un diamante cioè proprio se vuoi fare la cosa fighissima dici sai che c'è ma mi scrivo una cosetta la lascio come nota che quando muoio vi prego andate da taffo e fate di me un diamante che mi piacerebbe tantissimo qualcuno desiderasse questa cosa di me la vanità della bilancia no questo è bellissimo qua stiamo creando desideri per tutti quindi il primo ricordo è terrificante da questo ho dovuto creare un'evoluzione cioè mi sono dovuta evolvere e comunque questo tipo di credenza perché poi questo poi ho dovuto studiare per superare queste credenze perché sennò faccio una vita meschina perché poi la vita in visione di quello che ti resterà o che qualcuno ti lascerà in eredità per me è una vita mediocre fortunatamente di natura mia non me ne è mai fregato niente però poi questo creava un disvalore no? un non dare talmente non la voglio sentire quella materia che a questo punto faccio di tutto pur di non averla cioè creo le condizioni anche inconsce affinché io poi non ce l'avrò torno secondo me questo è bellissimo perché dopo lo riprenderò però ti volevo dire giustamente dicevamo i soldi sono un tabù e allora facciamo fatica a parlare nella tua famiglia parlavate allora tanto ma dipende come ne parli è capito perché se poi nella vostra famiglia era un tema di conversazione era un tipo allora o era però era tossico non si può fare no? quella cosa che riguarda poi il sogno perché questa cosa va a inficiare il sogno cioè non è possibile non si può fare non abbiamo abbastanza soldi io poi nella mia vita fortunatamente ho sperimentato che c'è un altro modo di vivere che non è solo che riguarda il sogno quindi il proiettarsi non è io adesso quando metto i desideri per esempio non è che dico vorrei avere un sacco di soldi no metto il desiderio voglio andare in Uganda a incontrare gli scimpanzei gorilla e lascio all'universo la possibilità di manifestare la modalità però io quella cosa già me la vedo già mi vedo in Uganda con gli scimpanzei gorilla questa cosa per esempio che fa molto ridere è un mio sogno di bambina io amo gli scimpanzei e amo i gorilla e da mo' che lo penso questa cosa io un giorno andrò in Uganda e incontrerò il mio gorilla che mi guarderà negli occhi e dirà ma chi è sta fessa che mi guarda così con gli occhi da fessa come tutta innamorata ora questa cosa l'anno scorso praticamente si è praticamente realizzata io a dicembre quest'anno andrò perché ho fatto i miei 50 anni e ho detto sapete che c'è io non mi sono sposata ma mi faccio il matrimonio per me stessa e per il matrimonio metto una cassa con il mio sogno che voglio andare a incontrare i scimpanzei gorilla e i miei amici che verranno alla mia festa che è il mio matrimonio con me stessa ognuno quanto vuole da un euro da tre euro quindi ho organizzato sta festa pazzesca oltretutto tutta in patto zero a chilometro zero è venuta un sacco di gente e io con quei soldi quest'anno vado a incontrare gli scimpanzei gorilla wow non vedo l'ora di vedere le foto scusami quindi come vedi poi il desiderio ha un potere molto molto più forte no? più grande dei soldi in se stessi certo che ci vogliono i soldi per andare in Uganda ma mai avrei pensato che mi sarebbe venuta l'idea di fare il matrimonio con me stessa e che tutti mi potevano contribuire a fare il viaggio in Uganda col trekking che a me piace tanto capito io in mezzo a Uganda ma questo sarà un altro capitolo a dicembre ti devi condividere le foto le vogliamo vedere assolutamente io e mia figlia blu stiamo pensando di creare anche un format mentre facciamo questa esperienza allora molto bello e invece tu non hai avuto allora un'educazione finanziaria pessima pessima guarda l'unica che un po' lo insegnava era mia nonna però mia nonna sembrava che stava sempre in guerra cioè nel senso che faceva le scorte metteva da parte no c'era tutto questo accumulare questo è pazzesco delle persone anche i miei nonna se l'avevano questa è la guerra che ti rimane di avere avere la dispensa secondo me è un po' quella generazione lì ma io guarda a un certo punto siccome la mia situazione economica è sempre stata veramente catastrofica ma catastrofica seria non è mica per finta ho toccato picchi altissimi di catastrofe da cui mi sono rialzata magicamente poi sempre per questo per questa cosa che io penso che poi i soldi in qualche modo sono un'energia e come diceva uno dei miei maestri buddhisti i soldi stanno nell'universo basta trovarcesi davanti effettivamente no ci stanno e quindi a un certo punto mi ricordo che disperata veramente disperata stavo su internet dicevo no vabbè ma io devo trovare un modo faccio tapping facevo il mio la mia recitazione buddista tre ore al giorno qualunque cosa visualizzazioni no? e mi misi su internet a cercare devo trovare un modo devo trovare un modo devo trovare un modo e feci questo corso di otto settimane con questo trovai JTR però sto corso costava 300 dollari mo io sti 300 dollari non ce l'avevo però sto master online mi diceva qualcosa mi diceva qualcosa e mi sono messo a fare sto corso e il giorno dopo vado a un funerale incontro una mia carissima amica ma lo volevo proprio fare pure la vedi la potenza del desiderio io voglio proprio fare sto corso di JTR però sti soldi non ce l'ho e dovevi da 150 dollari subito soddisfatti o rimborsati il giorno dopo vado a sto funerale e mi metto là a sostenere che questo era uno che c'era un sacco di donne che sono tutte rincontrate e mi metto un po' a fare da da qua di avanti tra queste sonne vedi quanto è importante il lavoro che facciamo tra di noi quindi a metterle un po' d'accordo al funerale di questo tipo da mediatrice e mi metto scusami però da grande voglio essere mediatrice di funerali potrei aprire potrei aprire un'attività anche di questo e vado a pranzo con una di queste ex che è una mia carissima amica e ci mettiamo a parlare e io gli dico madonna chissà poi dopo il funerale uno parla dei JTR e gli dico guarda io proprio vorrei proprio farlo ma sto disperata perché non ho manco i soldi per dargli l'anticipo e lei mi fa guarda io ho guadagnato talmente tanto sto mese che facciamo una cosa te lo do io la cosa per pagare l'avvio di questo corso e io accetto di gran lena questa cosa e devo dire che dopo manco due settimane che facevo questo corso effettivamente era cominciata ad arrivare un flusso di soldi nella mia vita per cui ho ridato i soldi a lei e mi sono pagata tutto il corso e quindi mi sono diciamo che io ho cominciato a creare un'autoeducazione che ancora porto avanti perché mica è finita qua la tragedia cioè ancora non riesco ad avere quella costanza riesco ad avere una costanza nell'abbondanza ma questo è un altro discorso però lì sono andata a scardinare e tutte le false credenze rispetto ai soldi quando ci siamo sentite quando abbiamo parlato no questa cosa di demonizzare questi soldi cioè i conflitti una cosa che crea il conflitto te crea un trauma rispetto ai soldi cioè quando esiste un conflitto rispetto ai soldi tu c'hai un trauma per cui in qualche modo fa in modo io per esempio mi rendo conto è come se avessi fatto in modo cioè lì mi riconosco capito cioè nella tragedia economica per tanto tempo mi sono riconosciuta cioè lì mi è familiare oppure alla onda evitare il problema coi soldi come li brucio in qualche modo riesco a farli scomparire dalla mia vita cioè crea veramente delle tendenze di atteggiamento rispetto a questa cosa adesso mi stai facendo pensare perché nel nudismo finanziario precedente che abbiamo fatto a Firenze con Roberto Recchioni che è la rock star dei fumetti e lui ha una storia nel senso che viene da questa famiglia dove erano molto poveri dove mancavano tanto i soldi e lui invece ci raccontava come lui da grande ha questa tendenza a sperperare fare tutto il contrario di quello che non poteva fare da piccolo e allora tu dici che come la tua famiglia viveva i soldi ha creato in te questa reazione delle attitudini non sane comunque ma ci stanno tante credenze per esempio c'è una credenza che quanti di voi non ce l'ha non puoi guadagnare facendo quello che ti piace questo è il più grande tabù rispetto ai soldi che abbiamo un pochino tutti chi è che non ha mai ha avuto se vabbè vuoi fare l'attrice cioè io faccio l'attrice a casa mia era se ho capito devi andare a lavorare no ma io faccio l'attrice nel senso che sto studiando investo delle cose anche soldi investo perché in questo santi nonni che ogni tanto sotto banco mi passavano i soldi per studiare recitazione con i miei maestri grazie grande gratitudine per questa cosa però era proprio demonizzata questa cosa cioè il demonio è guadagnare facendo ciò che ti piace è impossibile non è vero non è assolutamente vero perché invece è molto più facile guadagnare con quello che ti piace perché sei più disposto a fare sforzi sei più disposto a impegnarti sei più disposto a investire e quindi il ritorno è chiaro e questa è una credenza collettiva quasi che ci hanno insuppato nel cervello e poi Berlusconi ha mandato a fare scuola steneriana ai figli e lui lo sapeva che si poteva di guadagnare facendo quello che ti piace perché la scuola steneriana dove tu lavori con gli elementi aria, terra, fuoco te lo insegnano che tutto sta nel momento presente in quello che tocchi in quello che annusi in quello che guardi in quello che hai il coraggio di vedere però non può diventare a volte una trappola come una gabbia quello di pensare faccio quello che mi piace qualunque modo nel senso tu gli dici per esempio è molto difficile in realtà anche mio padre la mia storia familiare mio papà lavorava in banca io invece ero creativa e ovviamente io ho avuto anche la narrazione che hai avuto tu però io ci ho riflettuto tanto ovviamente quando ero piccola anzi andavo contro perché è la cosa giusta da fare quando sei adolescente però dopo adesso da grande dico quello che voleva è proteggermi in un certo senso perché comunque tu avrai vissuto enormi difficoltà come è stata la tua per esempio emancipazione finanziaria? ma l'emancipazione finanziaria è stata innanzitutto la decisione perché sai noi veniamo anche da un paese dove i nostri genitori ci sostengono questa è una tragedia praticamente ti rendi conto che era meglio che non te sostenevano perché spesso è basato o io ti do quindi fai quello che dico io o io ti do però scegli qualcosa che in fretta io possa non darti più io ti do cioè c'è sempre i soldi per assurdo non sono mai slegati dal compromesso in qualche modo no specialmente nelle relazioni intime no io adesso riesco con facilità a sedermi che ne so c'è il fidanzato di turno e dico oh guarda che ho speso 50 euro di noleggio macchina ma c'è una paghide stasera ma ci ho messo solamente a fare questo vent'anni perché c'era il tabù la vergogna anche nell'indipendenza c'è la vergogna rispetto ai soldi capito di non dire guarda che t'ho prestato sti soldi me li dai che ora c'ho bisogno o chiedere no perché c'hai paura che non ce la fai magari a ridarli indietro perché comunque c'è un senso di vergogna rispetto ai soldi e il ti piace non è il ti piace rispetto all'effimero non è che ci vado voglio andare in discoteca a fare soppre le gamme e fare quello che mi pare fare quello che ti piace cioè quello che rispecchia il tuo talento per me è quello quello che ti piace non è a cavolo perché poi ci vuole lo sforzo io ci metto la quantità che l'universo ci metta poi la qualità ma io la quantità di impegno ce la devo mettere non è che stamattina non mi sono alzata alle sei e mezza che non ho fatto la meditazione che non ho fatto sport che non ho fatto il rilassamento attoriale che non ho messo a posto la casa cioè ho vissuto una vita di impegni tutto il giorno per fare quello che mi piace ma mi pesa molto meno che se dovessi andare a me mi metto in banca a lavorare ma è ammazzato magari guadagno anche una cifra che mi dà una costanza di benessere ok quella famosa cosa del posto fisso la che cozzalone ma a me mi ammazzi ma a me mi è ammazzato cioè io non sarò mai felice alla quale la questione è voglio essere felice o voglio soddisfare le aspettative di qualcun altro o di un sistema che che privilegia se a posto di quest'anello indosso un cartier però quest'anello me l'ha regalato mia nonna e il valore che ha quest'anello sì ancora non me lo posso autoregalare un cartier ma non farei mai a cambio oggi mi piace quest'anello mi piace tantissimo perché questo è un tema che ci siamo resi conto dei soldi che nella nostra società sono anche identitari danno il valore di quello che siamo nel senso è come se essere povera ancora fosse una vergogna mi fa molto ridere perché c'è quella canzone che è con il salone poco ricco che a me mi fa tanto ridere no guarda l'altra sera sono andata cioè questa cosa del allora la verità è ci servono i soldi per coprire dei bisogni o ci servono i soldi per attivare la nostra creatività per un mondo migliore perché qui è tutta una trappola rispetto al cioè c'è un mondo che ti dice che tu cioè crea bisogno no cioè noi tutto l'advertisement tutto è sul creare il bisogno di qualcosa ma io poi di tutta sta roba ma c'ho veramente bisogno ora ti faccio un esempio stupido io tanto tempo fa quando ero più ragazzina compravo un sacco di vestiti che naturalmente poi non essendo un'accumulatrice ho buttato regalato no non ho messo per mesi e mesi accumulato solo polvere solo quello l'hanno fatto quando ho cominciato a creare la a un certo punto ho detto ma a me mi servono tutti questi vestiti la domanda vera ma tu quanta roba di quello che c'è nell'armadio ti metti no è bellissimo che dici questo perché è una delle domande che ci siamo tanto fatte del nudismo finanziario e questo è il momento per dirvi se non lo sapete che anche voi vi denuderete questa sera perché facciamo anche questo gioco di lanciarvi delle domande che se volete potete rispondere col cellulare è molto semplice potete andare vedi come mi tradice io ci provo allora se andate a questo sito slido.com si aprirà una domanda che è quando è avastanza no? che è quello che stavi dicendo tu è bellissimo che ne usci da sola perché è una delle domande che le lanciamo al pubblico sempre quando è avastanza allora se voi andate da slido.com nel codice mettete rame e allora verrà la domanda e potrete rispondere così noi adesso vedremo quando è abbastanza per te quando è abbastanza? quando è abbastanza? si di soldi ma quando è abbastanza ma io è abbastanza quando veramente sono onesta con me stessa cioè io per esempio all'inizio di quest'estate anzi da marzo eh? ah è perché è vero? ma sai che ci sono stati in città dove c'erano tanti che volevano essere Bezos adoro è bellissimo perché questa guarda la prima ce l'ha detto Benedetta Barzini la grande modella che abbiamo fatto con lei è il nudismo a Milano e lei dice è necessario con qualcosa guarda io la metto sempre su questa cosa dei bisogni no? perché uno dice ma io veramente di che cosa ho bisogno? erano tre anni che non andavo in vacanza perché ho avuto un sacco di problemi economici e per due anni sono stata diciamo che poi con grande creatività no? li ho sopravvissuti anche in maniera molto eh io cerco sempre di usare le cose che mi succedono come opportunità di capire dov'è che posso andare a migliorare quindi comunque ce l'avevo fatta quest'anno io all'inizio dell'estate ho detto proprio ma io di che cosa ho veramente bisogno? ho detto io ho bisogno di andare in vacanza ho bisogno di andare in vacanza e la situazione economica non era delle più fiorenti ok? però io ho detto questo ho detto io ho bisogno di andare in vacanza non ho detto io ho bisogno di soldi ho detto io ho bisogno di andare in vacanza insomma per tutta una serie di casi che io al caso ci credo ben poco quest'anno era l'anno di ti mangio il cuore quindi io sono andata in giro con i treni per tutta Italia e qui ritorno a quello di cui veramente abbiamo un bisogno che sono poi alla fine quello che secondo me io mi porterò nella bara che sono i legami di cuore e di amicizia e di dialogo che ho creato in questa vita questo probabilmente me lo porto e lo ritrovo pure nella prossima siccome ho creato talmente una rete in questa vita di gente soprattutto di donne e per questo volevo dire quello che non ho detto all'inizio vi ringrazio di avermi invitata qua perché noto e guardo questo gruppo di donne che cominciano a fare rete e di cui io sono profondamente grata perché credo veramente che un femminile illuminato possa cambiare i fattori di come viviamo lo credo veramente cioè questo coraggio di guardarci prenderci per mano smettere di giudicarci questo è il più grande tabù che stiamo cercando di rompere smettere di giudicarci prima noi stesse e poi una con le altre questo veramente è stato il motivo per cui io mentre mi invitavano ai festival usavo i biglietti del treno li allungavo e in ogni posto dove sono andata sono andata a trovare un'amica che gentilmente mi ha ospitato non ho pagato i viaggi poi al sud non mi hanno mai pagato a mangiare perché sono ospitali pure troppo e mi sono fatta io praticamente so due mesi che sto in giro in vacanza e dici ma sei questo lo sai che cosa ha portato che io sono tornata super produttiva con una creatività a palla de fuego non sapevo come trovare i soldi per fare questo film che voglio fare in uno di questi viaggi sono andata a Varna in Bulgaria e ho detto ma guardate che roba non ci avevo pensato ma io mezzo film me lo giro qua mi prendo il fondo di un romaggio per le donne ho cominciato a creare tutta una serie di cose e adesso sto super creativa e super produttiva in ottimizzazione e senza spreco inutile di energie in cui sta e lascia il bel latte come fare in un flusso creativo meraviglioso che naturalmente porterà dei soldi sarò un miliardaria quest'anno? non lo so ma sinceramente non saremo Befos quest'anno quindi va bene il necessario con qualcosina di più soprattutto per poter offrire una cosa da mangiare alle mie amiche ai miei amici per condividere perché poi alla fine ma che cedevi fa? allora volevo vedere il 27% però è un milione non è male un milione? beh buono quello ci puoi fare un sacco di cose pensavo quelli del milione ti possono finanziare il film possiamo chiederli beh guarda che bastano un per cento di ognuno poi alla fine non è che ci vuole dare se ci pensi alla fine di tutto quello che guadagni questa è un'altra cosa pazzesca che ho scoperto il 5% va sempre regalato va sempre donato a qualcosa in cui credi questo l'ho scoperto in quel corso di JTR me lo sono portato appresso ed è stata la mia esperienza nella pandemia pensa nella pandemia io ho fatto proprio questa esperienza io sono arrivata in pandemia veramente senza il becco di un quattrino ma dire zero avevo fatto un casino nel lavoro nel senso un casino avevo denunciato una roba non giusta e quindi ero stata messa da parte per un annetto per le mie cose di giustizia per cui combatto per le donne e quindi ero stata parcheggiata per un anno buono senza provvenire quindi arriva la pandemia io mi ritrovo senza il becco di un quattrino zero e bella e buona ha deciso di andare a contrarre un amico che stava un po' in crisi nelle marche col cane quindi espadrio dico a sto punto quello che mi fa tanto qua si mangia per uno si mangia per due che dobbiamo fare tutto chiuso e me ne espadrio quindi mi faccio pure la vacanza io per esempio la pandemia non l'ho vissuta mentre stavo là e mi metteva a fare i video perché il mio più grosso cruccio era la situazione delle donne io ero terrorizzata infatti è successo 60% in più di violenze domestiche che questa cosa di chiudere la gente in casa avrebbe fatto scoppiare il tema della violenza domestica quindi l'unica cosa che facevano questi cioè dedicavo questi video su Instagram i vari social proprio a a sostenere questo tema e in più tutto quello che mi chiedevano che era quello che potevo fare sono artista offro interpretazioni letture quello che potevo fare offrivo a un certo punto e io ho detto qua deve succedere il miracolo perché se no io moro di fame ma veramente a un certo punto magicamente questo donarsi questa è la cosa di donare quello che c'hai no? io c'avevo questo c'avevo la mia preoccupazione per le donne e la mia arte quindi quello potevo donare e sostenere questo mio amico che era andato a trovare che stava un po' in crisi e dopo un po' comincia a succedere una cosa geniale da tutto il mondo vi giuro da tutto il mondo mi cominciano ad arrivare telefonate di gente io ho fatto il mio spettacolo sulla Magnani veramente dappertutto a Melbourne negli Stati Uniti tutti i legami di cuore che avevo creato gente che mi chiamava dal nulla ma veramente da Toronto da Melbourne cioè ma cominciavo anche quasi a avere paura e mi chiedeva ma c'hai bisogno di qualcosa ti posso andare qualcosa e mi sono cominciati a arrivare soldi e io di questi soldi che non erano tantissimi il mio proprietario di casa mi ha dimezzato l'affitto così bello e buono io sono rimasto e ho cominciato a fare attività pure a portare la spesa alla gente magari che si ammalava così perché io non c'avevo sta paura del covid perdonate ma io non c'avevo paura io non c'ho paura delle malattie non c'ho l'ipocondria quindi vivevo non mi piaceva sta cosa del terrore pure là dalla morte io sta cosa dalla paura della morte è proprio una cosa che non riesco proprio a far digerire tanto devi morire eh almeno vivi bene cioè questa cosa mi ossesse ma questi sono matti tutti con sta paura della morte tanto viviamo che se no qua non viviamo più quindi al certo mi cominciano ad arrivare questi soldi poca roba e io di questi soldi tutto il 5% lo donavo a mia volta che ne so o alla mia associazione buddista la sua caccai o a persone che a loro volta avevano bisogno di soldi e in quel momento non ce l'avevano e ho creato questo circolo virtuoso di giro dei soldi per cui pure là la mia creatività esplosa ho scritto il mio film che poi vorrei fosse la mia prima regia ho vinto il fondo del ministero che so comunque 20.000 euro durante la pandemia sono stata l'attrice che forse ha lavorato di più durante tutta la pandemia ho fatto un film ho ribaltato completamente la situazione ho completamente ribaltato la situazione perché uno poi questa cosa per esempio dell'offerta no? di non trattenere tutto per sé ma una parte di lasciarla andare che a questo 5% di tutto ciò che mi entra io lo dono sempre e questo credo che crei veramente un circolo virtuoso nei soldi perché i soldi per me sono un'energia come tutte le altre cose sono proprio un'energia e questa energia va attivata in qualche modo ecco perché poi io mi soprannomino la contessa scalza no? perché in qualche modo poi la vita mi porta sempre qualcosa e credo che questo qualcosa me lo porti in qualche modo perché io in questo circolo virtuoso ci voglio stare in cui ci si in qualche modo ci si sostiene o si dà qualcos'altro perché non sono sempre solo i soldi perché sono persone che ci hanno bisogno di una cosa che tu sai fare cioè lo scambio no? io spesso mi scambio cose che sappiamo fare tra persone che conoscono ci scambiamo allora io ti do due ore tre ore di coaching mi scrivi il soggetto che ne so per esempio no? faccio gli scambi anche quindi creare questo circolo virtuoso io credo che sia veramente una cosa che ha creato questo movimento della contessa scalza nella mia vita per cui poi alla fine tornano in qualche modo allora stai mettendo in questo sistema? scusa sono stata molto prolissa perdona no 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 figurati no è bellissimo questa cosa che dicevi i soldi sono energia no? questa è oltre una domanda che ci piace farci e vi vorrei fare cosa sono invece per voi i soldi? possiamo fare la stessa cosa di tornare lì su slido.com e così scrivete la parola come per lei per esempio per te l'energia vediamo cos'è per loro i soldi è libertà caspita questa l'ha detto molto Recchioni che ci ha detto i soldi sono la possibilità di dire di no o per esempio di lasciare un brutto capo lasciare un marito è vero questa cosa è un mezzo è sicurezza tu per esempio non hai bisogno della sicurezza e tu non ti senti insicura avendo affrontato tutte queste difficoltà ma io sono nata precaria io ho scelto un lavoro precario a me quando mi parlano del precariato mi viene da ride io lo so fare il precariato cioè per assurdo è diventato un grande allenamento questa cosa cioè io sto veramente per esempio io avevo un concetto allora sta cosa che uno si deve comprare a casa allora questa cosa io vivo da sola da quando ho 18 anni me ne sarei comprate tre decase probabilmente con tutti i soldi che ho dato in affitto a un certo punto della mia vita e manco troppo tempo fa perché c'è sempre questo fantasma te devi comprare il mattone che è una cosa che io mi sono guardata veramente allo specchio e mi sono detto ma io veramente la voglio sta casa o è un'aspettativa o è una cosa che vogliono gli altri o una cosa che io devo vivere perché di riflesso si dice che devi avere la casa a me già la parola immobile mi mette l'ansia a me l'immobile mi mette l'ansia perché se io domani voglio andare a vivere in Uganda con gli scimpanzai sai che faccio? svuoto casa la ridò al proprietario e vado in Uganda a vivere con gli scimpanzai pure questa casa ma dove me la devo portare questa casa? cioè devo fare io poi altrettanto voglio essere cremata ma anche come serve tutto questo spazio cioè era un'idea è un'idea di quello che qualcuno ha deciso che bisogna avere questa casa l'immobile a me la parola immobile preferisco pensare all'idea che bello ma mi compro il nuovo furgoncino della Volkswagen me lo attrezzo tutto come mi pare e comincio ad andare in giro guarda come gioisco molto di più a me pensare che devo pagare il mutuo già ho tutti quei cavoli che ho quelle finanze che già mi bastano oltretutto no? tra i cartelli esattoriali che è un continuo il ciclo vitale della cartella esattoriale cioè veramente sembra una barzelletta io appena mi rialzo arriva la cartella esattoriale ho detto c'è qualcuno che ha fatto la spia perché c'è è un'energia lo vedi che se ne accorgono qualcuno si accorge che io in quel momento sto qua e ta la cartella esattoriale appare misticamente sul tavolo di casa mia no ma a parte gli scherzi però un po' è così cioè cos'è che mi dà veramente gioia a me mi dà gioia fare una settimana su uno yacht con un cambio di dieci costumi uno a pranzo uno a a me mi fa felice andarmi a visitare i posti con l'ombrellino sulla spalla mi piace che dici molto questa cosa della casa è interessante perché ti volevo fare questa domanda allora una delle cose che io ho imparato con questo progetto è che non ci sono risposte giuste a come spendere i tuoi soldi ci deve essere la tua risposta che ti fa per te però è giusto è divertente che dici questa cosa della casa perché è proprio la mia storia nel senso che peraltro è vicino a qua allora io sono venuta qua alla Roma la prima volta a 15 anni e sono venuta a una delle cose che ho visto è uno dei luoghi più meravigliosi per me del mondo che è il cimitero protestante e io ero molto ragazzina e io in quel periodo ovviamente avevo scoperto tutta la poesia dei romantici così ero lì ovviamente a 15 anni è il momento romantico meraviglioso Kids e compagnia bella e mi ricordo che ovviamente ho visto la tomba di Kids ero lì John mi dispiace tantissimo sì veramente ragazzi e proprio io avevo il cuore spezzato sono anche stata a casa sua veramente molto impattante e mi ricordo che ho letto il suo epifato come si dice epitafio che sono un nome scritto nelle acque e io lì ho detto no questa è come io voglio vivere la mia vita e mi ho detto no veramente la vita bisogna viverla così e essere un nome scritto nelle acque e io tutta la vita e ovviamente avevo intanto mio padre lì che diceva monse devi stare attenta ai soldi e invece io sempre volevo fare questa cosa che dici tu la casa non ha nessun senso io sono un nome scritto nelle acque così però invece qualche anno fa per fortuna un fidanzato mi ha detto ma tu sei fuori comprati questa casa e in realtà me la sono comprata anche con una fatica enorme se non fosse stata per lui non ce l'avrei mai fatta e devo dire che adesso non dico che sia la soluzione che tutti devono comprare la casa però a me mi ha fatto molto riflettere una delle domande che ti volevo fare perché io mi sono resa conto per me quello è emblematico di come io non era il problema la casa averla o no se no che io non davo valore ai soldi era come era qualcosa nel quale io non mi rapportavo e questa cosa tu l'hai detta prima che a volte cresci e dici non do il valore però non è quella la risposta che per esempio io davo di dire ok non ci penso ma non importa io la dico proprio relativamente a cosa rappresenta per me nel senso perché per esempio i soldi sono importanti io ho da fare un sacco di roba con i soldi cioè i soldi servono non dico che non servono cioè i soldi servono io li devo fare comunque perché devo ho duemila progetti voglio aiutare un sacco di persone a realizzare loro cioè il mio sogno è veramente diventare e lo realizzerò probabilmente cioè io voglio veramente diventare una delle prime produttrici attrici serie in questo paese no che produce però vedi l'ho messo pure questo cioè quest'anno produco il mio primo cortometraggio di un altro regista giovane talentuoso ho trovato il modo cioè anche di diventare creativi rispetto a questa cosa dei soldi capito cioè di stare in ascolto di dove stanno veramente i soldi che servono a te per realizzare quella cosa là perché noi andiamo sull'accumulo non andiamo cioè il problema è che i soldi mi rappresentano cioè se io ho quel tot di soldi mi rappresentano no io voglio avere veramente quello che mi serve per fare quello che voglio fare più un tot questa cosa della pensione poi ci andrò a parlare con lei io già sto facendo il calcolo questa è una cosa interessante perché io voglio però pure là questo è bellissimo mi sembra che dovrebbe essere il rassunto dell'evento facciamo tutto quello che vogliamo più la pensione però per esempio ho scoperto che c'è un posto convenzionato dalla comunità europea dalla nostra fantastica tesserina sanitaria in Olanda dove tu ti metti già in lista d'attesa meraviglioso che è un paese un paese intero dove ci sta tutto pure il coffee shop ci sta la piscina la sala da ballo per fare sport la farmacia i restauranti tutto quello che ti serve solo che le strutture sono gestite da operatori sanitari quindi tu sei un po' picchiatello ma poi andare dove ti pare e c'è sempre chi ti controlla per esempio questa cosa io sto pensando di mettermi in lista d'attesa fra un po' perché è anche gratuita te la paga la sanità nazionale ma in Olanda? no no quella europea certo noi facciamo parte della comunità europea ci sono delle leggi per esempio l'informazione è una cosa che dobbiamo curare andare a scovare l'Italia è pessima in questo ci sono un miliardo di soluzioni che si possono trovare dove si può creare una rete economica no? specialmente per le donne adesso intanto sembra che cascano dal pelo cioè Euroimage ha fatto dei decreti per cui se tu fai una coproduzione con un altro paese il tema è le donne c'hai la priorità a prendere i soldi per fare un film per esempio no ci stanno un sacco allora l'informazione per esempio è una cosa su cui bisogna puntare su queste cose qua e per quello abbiamo l'Elisa e invece vorremmo cosa hanno detto la indipendenza ricatto bellissimo costruzione autodeterminazione progettualità questa è quella che dicevi tu per te la parola di bella sì un'opportunità una possibilità potere questo è bellissimo e questa è una delle cose che abbiamo vissuto tanto nella nostra community quando tu fai un passo per la tua indipendenza economica c'è quel potere io quando ho messo a posto le mie assicurazioni che ci ho messo tipo sei mesi però per esempio quanto riguarda anche questo il valore prima hai detto una cosa interessante cioè la libertà di dire di no a qualcosa io su questo per esempio ci ho riflettuto perché spesso noi diciamo vabbè non dico di no perché mi servono i soldi io tante volte ho fatto questo errore nella vita e poi l'effetto è stato che mi trattavano una pezza da piedi o che poi quello che poi guadagnavo alla fine non era manco più di tanto cioè quanto invece un no detto al momento giusto accresce il tuo valore e di conseguenza anche il tuo valore economico per esempio sul mercato è una cosa che ci vuole coraggio a fare no per esempio nella carriera di un'attrice è una cosa che bisogna io ho sempre avuto del terrore perché io devo portare avanti la famiglia cioè c'era mia figlia piccola dovevo accettare tutto ho fatto la qualunque per l'amor del cielo l'ho usata per la mia formazione ma quando ho imparato a dire eh no grazie a me sta cosa non mi piace proprio e non era quando c'avevo la possibilità economica ma è quando mi sono presa il potere di riconoscere il mio valore e allora quella è un'altra cosa anche quanto noi riconosciamo il valore delle cose e quanto valore diamo alle nostre capacità personali e a quello che ci piace fare e ai nostri sogni poi a seguire collegando a me questo dei sogni che è molto bello anche mi chiedevo il problema di una carriera come l'attrice che però tu l'hai detto prima dice quella di essere sempre imprecario che in realtà è molto delle carriere artistiche però purtroppo adesso tante altre carriere siamo sempre in bilico voi non lo sapete fare pappero esatto sì sì è vero potresti fare il corso di formazione su come essere imprecario però invece questa cosa la difficoltà di avere un futuro no di progettare tu come l'hai gestito questo di poter progettarti verso il futuro sto a cercare il paesiello in Olanda guarda io posso dire una cosa ci ho rinunciato nel senso io veramente ho deciso che questo momento questo in cui stiamo qua è preziosissimo ed è irripetibile è normale che bisogna avere la saggezza no in qualche modo di crearsi però perché non mi posso pensare che magari prendo un'altra casa in affitto molto più grande con la mia piccola pensioncina magari in un casale con altre persone che magari sono rimaste single o che magari si sono sposate sono rimaste vedo o che ne so che ci hanno voglia o delle coppie che hanno voglia di condividere un luogo per la vecchiaia perché non può essere un'alternativa perché devo pensare che devo spendere per forza 1800 euro nella casa di cura questa invenzione malefica nella casa di riposo no e oggi parlavo con una con una regista che diceva una cosa molto interessante rispetto ai soldi lei diceva per me le donne dovrebbero essere mantenute a prescindere che una detta così pareva brutto no e invece questa cosa io ci ho riflettuto c'è un senso dice ma voi vi rendete tu ti rendi conto che noi la madre la casalinga occuparsi di cioè delle cose anche cara proprio tipiche del femminile no dice ma le donne hanno perso qualcosa ragazzi ma a me piace cucinare la cena per il mio compagno a me piace mettere a posto la mia casa a me piace prendermi cura di mia figlia quante volte l'ho dovuta lasciare di corsa perché devo andare a lavorare no cioè le donne di fatto occupano un sacco di lavori di form proprio di dimensioni proprio culturalmente che andrebbero redibuite se tu mi dai un tot al mese fisso o il governo o chi per lui io comunque sopra a quello poi costruisco anche quello che mi piace fare noi facciamo dieci volte più la fatica ma dieci volte più e alla fine io ho detto questa c'ha ragione il fisso garantito capito perché mi piace ma quella roba ci vuole un sacco di tempo ci vuole tempo per farla e il tempo è denaro questa è una verità secondo me che il tempo sia denaro specialmente quando si impiega a fare delle cose che servono a me o a un altro giustamente volevamo fare questa domanda sul futuro perché come siamo in Roma Future Week volevamo anche capire voi come progettate il vostro futuro se lo fate io per esempio ho cominciato da poco prima io ero molto tipo pensare al futuro e anche lì mi sono sbagliata perché si impara chi ha bisogno di fare progettazione vedi quanto sto imparando è la modalità creativa di farla che deve cambiare cioè nel senso devo progettare vedi mai fatto questo è il mio ti amo esatto grazie vedi come non sono così sbagliata e scrivo un libro bellissimo l'adoro wow non lo faccio vedi non lo faccio vince ragazzi non pianifico col terrore ah bravo qualche mini investimento gestione patrimonio wow c'è proprio con rame guarda c'è qualcuno che lo fa con rame obiettivi e investimenti me compro una varca guarda questo bellissimo che ne è male secondo me questo vi dovete conoscere sì allora lavoro sull'autostima anche quello perché quello che dicevi sul valore per esempio io mi sono resa conto che anche una parte di progettare per esempio la mia carriera era per una questione quella di non darti valore come qualcosa di io pensavo più a quello che facevo che non tipo a me come posso progettare a me no molto interessante arrivarà la pensione sì valutando quanto guadagno te amo penso 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 scusa penso 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 è bellissimo è bellissimo faccio quello che voglio wow dicendo no dicendo no vedi come dicevi tu bellissimo comunque dicendo no è potente io più vado avanti e più mi rendo conto che il dicendo no è potente mi angoscia e basta anche questa è molto è molto noi siamo proprio noi investo in EFT ah wow guarda qua c'è proprio gruppo evoluto c'è gruppo evolution totalmente invece non so se voi avete delle domande se sono delle domande che vorresti fare a Lidia non fate i timidi già c'è una che sta fatendo così col dito attenzione non ci sono non volete farci delle domande tu stai tu stai sospirando no ui fate i timidi dopo venite quando finiamo a parlare con noi vero? guarda io ridono ok va bene potete farla quando volete ok allora giustamente stavamo parlando di del vi volevo chiedere che lo abbiamo scritto qua che mi piaceva molto questa cosa del ah questo del donare giustamente e quello che lo collego per esempio quella cosa perché stavamo parlando prima che come il tabù crea delle narrazioni contraddittorie perché per una parte ti colpabilizzi per non averle però anche può succedere per averle questo lo dicevi tu nel nostro video che ci avevi condiviso che a volte anche l'accumulo può esserlo guarda io guarda ci ho fatto caso nella crescita della carriera secondo me c'è un tabù enorme sulla grandiosità cioè c'è un tabù sulla c'è un senso di colpa sul questa cosa bellissima non me la ricordo bene però era di Mandela che Mandela puntava proprio su questa cosa gli esseri umani veramente dovrebbero puntare a manifestare la loro grandiosità non c'è un po' questo retaggio un po' di pudore su questo splendere perché poi i soldi fanno pensare anche a qualcosa di splendente questo splendere degli esseri umani poi diventa attrattivo e attrae in qualche modo la buona fortuna e quindi anche l'abbondanza tant'è che io ho smesso di appunto di formulare i concetti su mi servono i soldi sulla base del desiderio quando ho capito questo meccanismo io credo fermamente che la mente crei la materia cioè io e la fisica quantistica andiamo parallele le neuroscienze tambien e il buddismo da 35 anni quindi proprio per me ormai sono arrivato alla conclusione che questo è fisica non è filosofia come diceva Einstein cioè che la mente crea la materia è fisica non è filosofia questa cosa si può fare e adesso finalmente se ne comincia a parlare in maniera più agevole più normale sta diventando anche un po' un common sense per cui io vendo i vagabondi spirituali in giro e gente che si fa frega i soldi da personaggi improvvisati e quindi dico state attenti perché c'è un po' questo vagabondismo spirituale chiamo i vagabondi spirituali quelli che cerca non hanno capito che il percorso è da dentro a fuori no da fuori a dentro questo è il grande errore dell'occidente il percorso è da dentro a fuori no da fuori a dentro non c'è quello che ti devi assalvare te devi anche aiutati che Dio ti aiuta non era che quello ti salvava a prescindere Gesù Cristo era un illuminato che moltiplicava i pani e i pesci di fatto no anche la figura di Gesù Cristo è un uomo che capisce che si può moltiplicare i pani e i pesci cioè lui parla di economia in qualche modo anche Gesù Cristo perché moltiplica i pani e i pesci quindi da da mangiare a più gente quindi io da quando ho attivato questa cosa sento che c'è un senso di colpa rispetto alla manifestazione cioè no la carriera quando ho cominciato a fiorire un po' di più tu sai quanta gente ho perso perché si sentiva a disagio rispetto al mio risultato quando per me io mi so io mi ispiro costantemente alle attrici migliori di me e che ci hanno maggior successo di me cioè per me che Blanchett è il mio è il mio punto di riferimento in questo momento come artista per l'impegno civile che c'ha con le donne per il tipo di progetti che fa per come fa l'attrice cioè per che tipo di percorso artistico ha fatto quindi per me no sto là e la guardo con gli occhi wow quando tu ti permetti di accedere alla tua grandiosità io mi rendo conto che la gente c'ha un problema cioè c'hanno inculcato una cosa per cui devi essere un po' o meno te devi ridurre un po' perché così là ci riconosciamo un po' tutti no? è un'azione proprio brutta questa che facciamo ma la facciamo generalizzata io ogni tanto ogni tanto la rifaccio no? questo diminuirsi cioè noi siamo nati per star bene per essere felice per brillare non per diminuirci quindi il senso di colpa poi rispetto anche all'abbondanza cioè io ero felicissima quest'estate che potevo vivere in questa abbondanza di vacanze strepitosa cioè un mese e mezzo di vacanza non mi pareva vero ve lo giuro cioè mai avrei pensato di poter veramente realizzare una cosa del genere no? di stare un mese e mezzo in vacanza non lo facevo dal liceo forse c'era una cosa meravigliosa però noi abbiamo un po' questo sottile senso di colpa rispetto al brillare quando invece dovrebbe essere l'unica cosa di cui ci dobbiamo occupare e io l'ho visto veramente quando ho preso questa decisione in mano di dire cavolo brilla quante persone ho perso perché ho visto proprio questo cioè il disagio rispetto a guarda che voglio che lo fai pure te cioè lo sto a fare perché pure te lo possa fare c'è un sottile senso di colpa rispetto a questo e quindi questo naturalmente si ripercuote su quello che poi io quando sento a gente eh vabbè ma quello c'ha i soldi ma meno male che c'ha i soldi cioè è buona fortuna essere nato con con un buon karma economico bisogna semplicemente essere grati cioè perché continuiamo eh vabbè ma quello c'ha un sacco dei soldi io ancora sento questa frase quando mi dicono eh Mainetti si è prodotto ma meno male che uno come Mainetti si può produrre il film da solo ma ne nascessero altri dieci come Mainetti cioè è buona fortuna ma perché sto terrorismo su sti soldi abbiamo trovato questa frase che è bellissima di Massimo Troisi che è stupenda che dice a me quando ho cominciato a guadagnare già mi dicevano eh tu ormai hai fatto i soldi adesso in albergo vai al Galia e io rispondevo che la povertà è una condizione non una vocazione che io mi voglio fare tipo le magliette bellissima e allora direi che siamo sicuramente è meglio piangere come diceva Merlin Morro in una Cadillac in una 500 ma dai meglio meri oggi con due pensioni e giovane o vecchio senza una lira cioè ragazzi ma questa è l'ovvietà per quello dobbiamo sforzarci di avere una visione diversa del concetto dei soldi una visione proprio ma come mi vedo io tra qui veramente pensare al futuro quante volte ci fermiamo e ci mettiamo là e diciamo ma io come mi voglio vedere fra cinque anni avere questo coraggio di guardare al futuro dove magari la condizione del momento è un disastro io in questo mi sento ricchissima io ho il potere della visione cioè questo non me lo può rubare nessuno cioè questo non me lo potrà togliere nessuno sono stati momenti in cui ero poverissima ma la mia visione ha creato quell'abbondanza poi e voglio che la crei ancora di più allora è bellissima secondo me la frase avere il coraggio di vedere guardare al futuro secondo me è perfetta per farti la domanda con la quale sempre guidiamo le nostre che create però è veramente secondo me viviamo un momento storico dove è molto difficile avere questo coraggio per il futuro per esempio anche avevo letto tu la nostra attrice sociologa ti piacerà forse d'accordo con questa cosa che dicono che stiamo vivendo questo momento storico dove se anche vedete tutti i prodotti culturali per esempio Stranger Things qualunque cosa è più sulla nostalgia sono prodotti dove quello che facciamo tutti è tornare al nostro passato perché dicono che per esempio quando una società ha un momento storico noi facciamo film sul futuro tipo quando era lo disegno e lo spazio così era perché era un momento nel quale la società aveva fiducia e speranza per questo futuro invece noi facciamo tutti questi prodotti perché abbiamo paura del futuro e l'unica cosa che si riconforta è arrivare la sera accendere Netflix e tornare nel passato per quello mi sembra un desiderio meraviglioso di lanciarci di avere il coraggio di guardare il nostro futuro e per quello mi sembra perfetto per farti la domanda che è quella che gela il sangue a tutto il mondo quando la facciamo ma tu Lidia quanti soldi hai in banca? ma un sacco di debiti quindi come diceva mia nonna chi ha i debiti non muore mai cioè quindi ho un sacco di tempo a disposizione ancora per farne tanti sicuramente ogni volta poi questa cosa ormai è diventata una barzelletta nella mia vita veramente veramente c'è un sacco di debiti sono arrivate pure le tasse mi ha preso un corpo cioè si accumulano tasse su tasse di non so cosa veramente però lo sai che ho detto innanzitutto da meno si può sempre andare a più è solo un punto è solo un segno mi tocca rilanciare devo fare di nuovo questo sforzo farò questo sforzo e allora la polarizzo la visione la faccio ancora più grossa cioè nel senso che poi mi sono accorta che se questa cosa è la mia storia è la mia è la mia è come si dice è la mia challenge io credo che ognuno di noi abbia una challenge a me mi è capitata su questo e proprio a me mi hanno invitata a parlare di nudismo finanziario capisci la vera barzelletta di tutta sta storia è che io che ho un karma economico imbarazzante da cui però risorgo costantemente e posso dire la verità migliorata anche rispetto ai soldi anche rispetto alla gestione rispetto al valore che do alle cose al valore che do a me stessa al valore che do alle persone che ho intorno a quanto vale ogni singola cosa che mi succede a cosa voglio veramente dire attraverso i film che faccio a scegliere ancora di più cioè per assurdo in questo momento io sto a dire un sacco di no e non me lo posso proprio permettere ma proprio non me lo posso permettere ma ho detto no io non me lo posso permettere io mi do il permesso che è un'altra storia perché qui con questa storia del non me lo posso permettere che equivale a io non ho il potere di ce lo siamo fatto levare tutto il potere di scegliere un mondo migliore e io questo è quello che mi auguro per un'economia che abbia il coraggio di investire sulle donne sull'ambiente che pianti alberi che smetta di fare cazzate con le bombe questo io voglio perché vedi quanti soldi più in tasca ci avremo quando noi tutti ci prenderemo il potere e questo rimando sempre alle donne nell'unione e nella rete perché tanto una donna in guerra un figlio non ce lo manderebbe mai e un albero non lo taglierebbe mai come ha detto qualcuno però è molto bello Lidia per carità è molto bello però non ne sfugge che anche voi dovete risolvere la domanda imbarazzante quanti soldi avete voi invece? che solo io non è soltanto uguale a Lidia infatti infatti tu è bellissimo lo amo guarda questa è stata la tragedia che ho vissuto nel primo evento che ho detto ma io sono povera la prossima volta che arrivo qua col filmone prodotto cash no è tragico io vabbè no dai adesso non più mi sento no ti giuro è anche per me è stato un shock nel primo evento perché ho scoperto di essere povera fatti i fatti tuoi è meraviglioso comunque siete poco democratici quelli che dicono fatti i fatti tuoi perché la vergogna si condivide ragazzi ma poi sono ricchissima no ma qua secondo me fra il pubblico puoi trovare dei produttori adesso andiamo a ok allora direi che grazie no grazie a te Lidia per favore è bellissimo sono troppo contenta perché avete voluto fare i timidi adesso ci possiamo andare a prendere una birra così potete farci le potete fare tutte le domande che volete senza vergogna e allora qua ci sono tutti i nostri dati se vi volete scrivere alla newsletter continuare siete pazzesche bravissime questa roba è veramente bravissime no grazie grazie a voi grazie a voi e soprattutto grazie a questa casa meravigliosa industria frubiale siamo troppo io sono troppo contenta di questo posto meraviglioso mi sono innamorata subito per quello grazie mille di averci accolto alla Roma Future Week a Elisa soprattutto ma ovviamente a te guapissima sei stata bravissima brava ci vuole tanto coraggio si ha detto degli sfondoni perdonatemi ci vediamo al prossimo nodismo finanziario grazie a tutti 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 grazie a tutti